Musica Prima edizione del nostro telegiornale, buongiorno e bentrovati. Una testa di capretto, due proiettili e una lettera intimidatoria all'interno di un pacco sono stati rinvenuti dinanzi l'abitazione dell'ex sindaco di Acicatena, Ascenzio Maesano, che è al centro di alcune inchieste giudiziarie. Il macabro rinvenimento è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell'abitazione in via Roma. È stato lo stesso Maesano ad informare i carabinieri che hanno acquisito le immagini e avviato un'indagine. Dalle prime informazioni sarebbe ad opera di ignoti, che forse sarebbero stati immortalati dal video. Un chiaro segnale di matrice criminale all'indirizzo del politico, ritiratosi dalla scena pubblica da qualche anno in seguito ai guai giudiziari in cui è rimasto coinvolto. Un avvertimento in perfetto stile mafioso per quella che sembra un'inquietante intimidazione di cui al momento gli investigatori mantengono il più stretto riservo. E proseguono le indagini sull'incidente stradale che domenica scorsa a Custonaci nel Trapanese ha costato la vita a sei persone, una settima lotta tra la vita e la morte. Tutti i particolari da Luca Licata. C'è un'inchiesta aperta. La procura di Trapani sta indagando sulle cause che hanno determinato l'incidente mortale avvenuto a Custonaci in provincia di Trapani, costato la vita a sei persone. I carabinieri hanno sequestrato le due auto coinvolte per effettuare i rilievi. Si tratta di un Alfa Romeo 159 e di una Fiat Doblò. Le due vetture, domenica scorsa intorno alle 19, stavano percorrendo un rettilineo sulla strada provinciale 16 quando si sono scontrate frontalmente. Ciò è avvenuto perché uno dei due mezzi ha invaso la corsia opposta colpendo l'altra macchina che veniva in senso contrario. Le immagini mostrano chiaramente le condizioni delle due automobili completamente distrutte. Come sono distrutte due famiglie nel gravissimo incidente, hanno perso la vita quattro uomini e due donne. Non si hanno invece novità sulle condizioni della 34enne rimasta ferita gravemente e ricoverata in condizioni disperate nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Gli inquirenti stanno cercando di accertare quale fosse la velocità con cui l'Alfa Romeo sarebbe piombata sul Doblò. Il tachimetro della 159 si è bloccato con la lancetta che indica 190 km orari. Le testimonianze degli automobilisti che si trovavano dietro il furgoncino Fiat confermano che l'Alfa, guidata da Vincenzo Cipponeri, morto nell'incidente, stava viaggiando ad una velocità eccessivamente sostenuta e che 300 metri prima dell'impatto l'auto avrebbe perso il controllo. Il Doblò, invece, si ritiene stesse viaggiando a 70 km orari circa. Dopo l'impatto, la 159 è volata sopra il furgoncino Fiat schiacciandolo. L'automobile poi avrebbe fatto testa coda, terminando la propria corsa poco distante dal Doblò, finito sul guardrail completamente distrutto. Chiarimenti potrebbero giungere dai risultati dell'autopsia sui corpi dei due conducenti alla guida delle vetture coinvolte nel sinistro. Fondamentale sarà capire un'eventuale assunzione di alcol. Sbarchi continui a Lampedusa, hotspot ormai al collasso, scarseggiano gli indumenti, pochi i medici quadruplicati, gli arrivi in Italia rispetto allo scorso anno. Se non c'è accoglienza, non c'è vita, attuonato da Siracusa il cardinale Zuppi, presidente della CEI. E' sempre più emergenza in migrazione a Lampedusa, dove attualmente nel centro di prima accoglienza si trovano circa 1600 persone a fronte di una capienza massima di 400 Nella struttura di Contrada Embriacola inizia a scarseggiare tutto. Mancano scarpe, tute e qualunque tipo di abbigliamento. Molti trascorrono le giornate all'aperto sotto il sole, ma la sera, quando le temperature si abbassano, è impossibile stare fuori e si cercano soluzioni di fortuna a terra o in due su una brandina. Dal 1 gennaio sono oltre 26.000 emigranti sbarcati sulle coste italiane, più del quadruplo dei 6.543 dello scorso anno e dei 6.334 arrivati nel 2021. Questi i dati diffusi dal Viminale, con riferimento alle nazionalità dichiarate al momento dello sbarco, il 13,6% proviene dalla costa d'Avorio, l'11,8% dalla Guinea, il 7,3% dal Pakistan, il 7% dal Bangladesh e il 6,8% dalla Tunisia. I minori stranieri non accompagnati arrivati in Italia quest'anno sono ad oggi 2.700. Nell'intero 2022 erano stati 14.044. La paura e il rischio di un cutro bis ha spinto l'esecutivo di Giorgia Meloni ad abbozzare un piano d'emergenza per contrastare i flussi di migranti che da oggi appaiono fuori controllo, chiesto uno sforzo aggiuntivo ai sindaci per reperire strutture immediatamente utilizzabili per l'accoglienza. Intanto restano nel Mediterraneo le navi 18, Osean Viking e Life Support impegnate nei tentativi di soccorso e nei trasferimenti per alleggerire la pressione sull'isola. Ferma al porto invece la Louise Michel sotto sequestro per aver violato il regolamento delle ONG. Sull'isola intanto scarseggiano anche i medici, due per gli sbarchi, uno fisso al pronto soccorso, un pediatra, una guardia medica e un coordinatore e non c'è tempo per verificare le condizioni cliniche dei naufraghi. Priorità viene riservata alle donne incinte, quasi tutte al terzo o al quarto mese, molte quelle in procinto di partorire che vengono subito trasferite nel risoccorso a Palermo. Sul tema dell'immigrazione intanto è tornato a far sentire la sua voce da Siracusa in occasione del settantesimo anniversario della lacrimazione della Madonna il Cardinale Matteo Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Ricorda che il nostro Signore è stato profugo e che è una delle indicazioni, delle materie su cui saremo giudicati, cui siamo già giudicati oggi, perché credo che non è soltanto il giudizio finale, ma ci abbiamo un anticipo, cioè che umanità è che chiude le porte a chi scappa da Erode, per cui credo che quei profughi sono davvero la famiglia di Gesù e se noi siamo la famiglia di Gesù dobbiamo accoglierla, possiamo accoglierla e in genere l'accoglienza porta vita, apre al futuro. Quando non c'è accoglienza non c'è vita e non c'è futuro. Cronaca, due fratelli di 47 e 45 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Palagonia perché ritenuti gli autori del tentativo di omicidio con 18 coltellate di un loro vicino di casa di 50 anni è avvenuto sabato scorso a Scordia i motivi dell'aggressione. Secondo gli investigatori sarebbero legati a vecchi rancori l'aggressione intorno all'evento incontrata a Rasoli appena fuori dal centro abitato dopo aver tamponato l'auto della vittima l'avrebbero accoltellata al petto all'addome e al volto e poi l'avrebbero lasciata agonizzante sul selciato. Dopo l'accoltellamento i due fratelli si sarebbero dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce grazie ai soccorsi chiamati da alcuni passanti. L'uomo è stato subito trasportato in ambulanza all'ospedale di Militello in Val di Catania dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza. Gli investigatori sin da subito si sono indirizzati verso i due sospettati che sono stati rintracciati nelle loro abitazioni mentre stavano cercando di disfarsi dei capi d'abbigliamento ancora insanquinati. I due fratelli sono stati rinchiusi nel carcere di Caltagirone in attesa dell'udienza di convalida. Torniamo adesso a parlare della bimba di Zafferano Etnea nata con un solo rene riconosciuto dal Tribunale di Catania il diritto all'accompagnamento l'Inps condannato a risarcire la piccola Salvo Cuturi Il Tribunale di Catania se azione lavoro ha riconosciuto il diritto all'accompagnamento alla piccola Gaia Marino quattro anni venuta al mondo con un solo rene condizione di salute che impone un'alimentazione e uno stile di vita controllato per il resto dei suoi giorni. Un handicap che l'Inps ha riconosciuto parzialmente legando la richiesta di aiuto dei familiari omologata dalla sentenza emessa dal giudice Luisa Maria Cutrone che si è espressa a favore della bambina riconoscendoli il diritto di un'indennità che prima le veniva concessa solo parzialmente ovvero a copertura delle ore trascorse nell'asilo nido e raggiunta l'età scolastica esclusivamente durante le ore di frequenza didattica a scuole chiusa la gestione della bimba sarebbe ricaduta sui genitori compresa la responsabilità riabilitativa cinque volte a settimana considerando la delicatezza della patologia con la quale è costretta a convivere la bimba un esborso insostenibile per i conugi marino una battaglia legale quella intrapresa dalla coppia contro l'Istituto Nazionale di Prevedenza Sociale contrario ad ogni ipotesi di assistenza su cui la famiglia della piccola non ha inteso mai arrendersi alle logiche burocratiche snervanti e della tempistica incerta la vittoria legale fa tirare un sospiro di sollievo ai genitori della piccola Gaia che da anni si battono senza risparmiarsi per diritti della loro figlia la sentenza apre alle altre famiglie con figli in condizione di salute precaria e senza diritti l'Inpsa al riconoscimento dell'indennità è stata condannata ad esercire gli alletrati di mancata assistenza alla bimba e alle spese legali di un procedimento ingiusto quanto lungo stortuoso sfiancante e umiliante il commento delegale della famiglia Marino Francesco Silluzio oggi abbiamo ottenuto un grande risultato quello di avere finalmente la possibilità di dire che Gaia può soffrire dell'indennità di accompagnamento che era il beneficio che le toccava da sempre oggi è uscito il decreto di omologa abbiamo immediatamente notificato all'Inps il decreto adesso l'Inps dovrà adempiere al pagamento sia degli arretrati da giugno 2022 ad oggi più dovrà corrispondere l'indennità di accompagnamento alla bambina e questo per noi è un motivo di grande orgoglio Daniele Marino esprime la propria soddisfazione per la sentenza favorevole a tutela della propria figlia che ha una disabilità invalidante con la quale dovrà convivere per il resto della sua vita oggi è diciamo una bellissima giornata possiamo dire che Gaia ha vinto Gaia ha vinto la sua lotta ovviamente è una lotta che si continua non ci fermeremo qui solamente per il riconoscimento dell'accompagnamento di Gaia io spero e mi auguro che questa battaglia che Gaia ha fatto nei suoi quattro anni di vita sia diciamo la lampadina che aiuta quei genitori che stanno patendo la nostra stessa situazione che noi abbiamo patito ma il diritto dei nostri figli non deve essere mai calpestato lotta alla pedopornografia dati allarmanti nel report annuale dell'associazione METER fenomeno sottaciuto dice ai nostri microfoni Don Fortunato di Noto le modalità di scambio di materiale pedopornografico secondo quanto emerge dal lavoro di monitoraggio svolto dall'associazione METER nel corso del 2022 report presentato questa mattina stanno cambiando adesso i pedofili prediligono le cartelle compresse condivise vendute nella massima privacy all'interno di piattaforme di file hosting inquantificabile la mole di materiale in esso contenuto la pedofilia è sempre più un crimine organizzato che non conosce latitudini non conosce i confini che lucra sulle pelle delle piccole vittime molti casi seguiti dal centro di ascolto sono i dati emersi quelli che fanno rabbrividire perché il 2022 riafferma la nuova modalità di scambio è più comodo conveniente condividere a pagamento cartelle compresse piuttosto che condividere in altro modo l'osservatorio mondiale contro la pedofilia ha registrato un aumento sia dei protocolli ufficiali inviate alla polizia sia dei link segnalati diminuiscono le foto e i video che in effetti sono rilevati ma purtroppo tale diminuzione non equivale ad una minore circolazione del materiale in rete bisogna constatare che i social vengono utilizzati meno rispetto agli anni precedenti tant'è che il numero di segnalazioni sia in effetti dimezzato in aumento invece i casi seguiti da Metere le richieste telefoniche al numero verde che da vent'anni a questa parte segnala violenze e abusi 66.856 protocolli ventennali ufficiali inviata alla polizia alla polizia e alle varie polizie internazionali nel 2022 si segnala la pedo mamma animali abusi tra i minori ma anche i giochi online l'adescamento il dominio com che prevale nelle analisi delle segnalazioni la pedofilia non può essere mai definita normale né tanto o meno si possa pensare o renderla ideologicamente corretta assolutamente la pedofilia è una forma subida trasversale complessa criminale di manipolazione dei minori non soltanto una manipolazione psicologica ma anche un vero e proprio sfruttamento per la preversione del godimento di coloro che vivono queste situazioni criminali è emerso sempre questo termine criminale anche il dottor Gabrielli dirigente nazionale della polizia postale ha voluto ribadire che ormai è confermata la questione relativa a queste zone d'ombra criminali che sfruttano i bambini e che lucrano sulla pelle dei bambini dall'altra parte si pensa anche alle alleanze le alleanze sono fondamentali perché le alleanze favoriscono la possibilità attraverso la formazione l'informazione la prevenzione l'incontro degli studenti le università gli ambiti culturali e aggiungerei anche proprio perché abbiamo ricevuto il messaggio del Vescovo nuovo Romeo di noto la possibilità di creare una rete solidale una rete d'amore una rete capace di mettere a primo posto e al centro la difesa la tutela dei piccoli perché non sono solo i prediletti del Signore ma sono il presente di questa nostra società che deve sempre di più accudirli tutelarli e accompagnarli i paesi americani e europei sono quelli in cui dimorano i server le vittime più a rischio la fascia d'età compresa tra gli 8 e i 12 anni seguita dalla fascia tra i 3 e i 7 anni numerose le iniziative congiunte numerosissime le segnalazioni anche se in alcuni casi addirittura la privacy appare come un ostacolo alle indagini si diciamo che come ha detto durante l'intervento il nostro direttore dottore Gabrielli bisogna bilanciare interessi contrapposti da un lato il diritto alla privacy che è un diritto di rilevanza fondamentale di cui oggi si parla tanto ma dall'altro c'è la tutela dei minori quindi di fronte a diritti che hanno pari dignità bisogna controbilanciare le esigenze esigenze di tutela dei dati personali da una parte ma l'esigenza di tutela dei minori e di evitare che ci siano situazioni di sfruttamento dei minori di conseguenza il contrasto alla pedopornografia online è fondamentale quindi abbiamo bisogno di un contemperamento di questi interessi contrapposti un vasto incendio alimentato dal forte vento si è sviluppato nella notte in via a Montepoe a Pedara sul posto hanno operato fino a questa mattina un canadè e due squadre una dei vigili del fuoco del distaccamento di Ecireale ed una del corpo forestale parliamo adesso del ponte sullo stretto di Messina convegno a Palermo si è parlato di costi e tempi inerenti alla realizzazione dell'opera Luca Licata entro luglio 2024 il ponte sullo stretto di Messina dovrà arrivare ad approvazione definitiva poi partiranno i cantieri questo quanto prospettato ieri nel corso di un convegno organizzato al Teatro Massimo di Palermo dalla Fondazione Magna Grecia e dalla Fondazione Sicilia presenti all'evento i presidenti di Sicilia e Calabria i due governatori si sono mostrati uniti la pensano allo stesso modo il ponte rappresenta un'occasione di sviluppo è la madre di tutte le grandi opere capace di attrarre altre infrastrutture è un dibattito importante interessante ho visto già le dichiarazioni degli oratori ribadiremo quella che è la posizione del mio governo cioè faremo parte di questa accordata diciamo la Sicilia farà la propria parte di carattere economico sarà presente con un componente nel Consiglio di Amministrazione così come previsto nella bozza decreto che riattiva la società del Ponte sullo Stretto cancellata dal governo Monti che ebbe addirittura malgritamente sciogliere un contratto in corso la soluzione individuata da Matteo Sardini mi sembra molto efficace rivitalizzare quel contratto la società giudicataria dell'epoca sarà la stessa che farà il ponte e rinunzierà a 700 milioni di danni chiesti che al di là del tetto è una richiesta che considero legittima perché non si può sciogliere un contratto per legge senza causati effettive rilevanti il mio governo non soltanto è vicino e sosterrà la realizzazione del ponte ma si impegnerà e continuerà ad impegnarsi quotidianamente sul miglioramento del dato infrastrutturale sia con Mato che Ferroviario nel corso del dibattito si è parlato di tempi di costi si è ripercorso anche il passato l'iter sulla realizzazione della grande opera ha ricevuto nel corso degli anni diversi stop cambi di parere due blocchi nel 2001 nel 2006 c'è stata una scelta politica di sospensione poi nel 2008 si è ripreso a parlarne fino al 2013 momento in cui si è bloccato in maniera definitiva con la revoca della concessione adesso c'è una scelta politica di segno opposto è stato sottolineato nel corso del convegno ci sono naturalmente tanti problemi amministrativi tecnici e giuridici tutto però è risolvibile sono state le parole di Vincenzo Fortunato amministratore della società Ponte sullo Stretto a venire fuori dal meeting è stata una convergenza sulla realizzazione della grande infrastruttura considerata indispensabile da più parti anche la regione Calabria in quota parte in maniera proporzionale rispetto alla Sicilia farà la sua parte ma noi ci attendiamo che facciano la loro parte soprattutto l'Europa e il governo nazionale questa non è una infrastruttura che è utile soltanto alla Calabria o più ancora alla Sicilia questa è un'infrastruttura che è utile al Paese che è inserita in corridoi che l'Europa ha ritenuto strategici e soprattutto il Paese la Nazione l'Italia oggi deve davvero decidere se vuol far diventare la Sicilia la Calabria davvero l'hub dell'Europa sul Mediterraneo o vuole perdere questa occasione per l'ennesima volta e a Messina si è costituito il movimento No Ponte ne fanno parte associazioni ma anche tanti comuni cittadini che domenica scorsa si sono ritrovati a Torre Faro circa 300 persone armate di striscioni e bandiere si sono radunate in riva allo stretto per dire no alla realizzazione dell'opera una protesta pacifica per manifestare contrarietà al progetto infrastrutturale rilanciato dal governo Meloni e dal ministro delle infrastrutture Salvini tra i manifestanti c'è stato anche chi ha rispolverato quelle t-shirt con la scritta No Ponte che spopolavano tra la fine degli anni 90 e i primi anni del 2000 restiamo nel Messinese ci spostiamo a Taormina parliamo di Palazzo Corvaia che costituirà un polo d'attrazione di pregio si concluderanno entro fine maggio i lavori di riqualificazione e restauro dello storico edificio che ospiterà anche un museo sentiamo Francesco Larosa un gioiello storico incastonato nella perla dello Ionio Palazzo Corvaia torna a nuova vita fruibile dalla fine del prossimo mese di maggio al termine dei lavori di riqualificazione e restauro realizzati grazie ad un opportuno finanziamento regionale ripristinati i tetti e le coperture dell'edificio rifatte le pareti interne e le tante parti ammalorate soprattutto a causa delle infiltrazioni che negli anni hanno irrimediabilmente danneggiato anche gli infissi a lavori ultimati sarà utilizzato il piano terra 580 metri quadri dove saranno esposti permanentemente i resti archeologici della città che raccontano la storia dell'antica Taormina al piano superiore verrà collocato tutto il materiale fotografie stampe acquarelli e quadri che raccontano la storia dell'800 del novecento del palazzo sarà realizzato anche un museo civico entro il 2023 ancora non è passato un anno ma già si vede il lavoro che è stato fatto soprattutto di messa in ordine in sicurezza del tetto che produceva una infiltrazione di acqua che ha rovinato molto il palazzo il grosso è stato fatto adesso naturalmente la palla passa a noi che dobbiamo utilizzarlo in modo corretto e io penso a un museo che racconti la storia della città cosa diventerà questa struttura molto amata non soltanto dai taorminesi ma anche dai turisti che lo hanno visitato in passato e che avranno la possibilità anche di valorizzarlo ulteriormente con il museo con quant'altro sarà fatto qui dentro sì c'è un'intesa con il parco archeologico di Naxos Taormina di allocare nel piano terreno tutto ciò che è derivato da scavi che sono stati tenuti in città c'è parecchio materiale al teatro antico c'è parecchio materiale anche in altri musei siciliani l'idea è quella di riunirli tutti insieme per raccontare la storia della città antica in particolare gli ultimi resti che provengono dal scavo di Villa San Pancrazio dove sono state trovate diverse ville un intero quartiere di epoca romana devono trovare allocazione per poter essere restaurati per poter essere studiati e catalogati metteremo a disposizione una parte del piano terreno proprio per fare una sorta di laboratorio anche dal punto di vista didattico quindi visitabile in particolare da parte dei giovani e delle scolaresche un piccolo grande gioiello che corroborerà ulteriormente la vocazione turistica di Taormina Allora è impensabile che una città come Taormina non abbia un museo che racconti la sua storia perché la caratteristica di Taormina è che dalla sua fondazione ad oggi in circa 2400 anni si è sempre sviluppata nello stesso sito noi qui siamo in una sala che è del 1400 ma sotto di noi e accanto a noi ci sono tutte le epoche precedenti è improponibile per un turista che non ci sia un luogo dove può vedere e apprezzare la storia della città Lei ha fortemente voluto questo restauro? Sì perché credo che questa sia un'opportunità fondamentale per la cultura e il senso civico dei cittadini residenti i quali devono capire che stanno in un luogo importante per la storia dell'umanità ma è importante anche per i visitatori per i turisti i quali si devono sì anche divertire andare a mangiare al ristorante fare tutte le cose che si fanno ma devono anche appunto acquisire una sorta di rispetto per il passato di questa città che li accoglie e quindi deve essere accolta da parte loro anche mentalmente oltre che con i sentimenti ancora edifici di pregio da Taurbina ci spostiamo a Via Grande dove l'ex palazzo municipale chiuso da anni in quanto inagibile è stato ristrutturato ospita adesso una biblioteca il riqualificato ex palazzo municipale di Via Grande è chiuso anni dietro per inagibilità in seguito ai terremoti che si sono succeduti nel tempo è stato riconvertito a biblioteca sede dei servizi sociali del turismo e di altri settori amministrativi che hanno trovato ospitalità in questo storico edificio rimodulato secondo le esigenze amministrative uno dei simboli della comunità via grandese tornata alla produzione pubblica luogo in cui il sindaco ha voluto tutelare quello che fu il suo ufficio nella disponibilità delle istituzioni lasciando anche i mobili anch'essi antichi donati da un residente al primo cittadino che a sua volta li ha ceduti al comune compreso questo antico mezzo busto raffigurante San Mauro patrono di Via Grande nel centro etneo commenta il sindaco Leonardo sono dieci cantiere finanziati avviati nell'ammodernamento dei palazzi comunali da destinare a servizi pubblici come pure l'impiantistica sportiva alto il fiore all'occhiello dell'amministrazione in carica l'ex sede del palazzo municipale ospita una fornita biblioteca in quella che fu la sala consigliare l'edificio è stato dotato di un moderno ascensore e diversi uffici comunali creando un front office con la cittadinanza in uno dei palazzi storici restituito a nuova vita in combinazione con l'altro bellissimo edificio che è il palazzo Partanna oggi sede municipale era importantissimo perché noi qui siamo accanto alla chiesa madre non possiamo dimenticarlo abbiamo questa loggia che è bellissima e credo che la cosa più importante che è stata fatta in questa ristrutturazione è la presenza dell'ascensore qui per motivi chiaramente dovuti all'età c'erano delle scale molto difficili da poter fare specialmente per le persone anziane adesso con la presenza dell'ascensore tutto viene facilitato ma ripeto c'è anche un'altra predisposizione proprio all'accoglienza della gente e c'è ottimismo nella delegazione agrigentina che è stata sentita nella sala refettorio di Palazzo Venezia a Roma dalla giuria del Ministero della Cultura Agrigento è candidata a Capitale Italiana della Cultura per il 2025 il dossier è stato presentato dal sindaco Franco Micciche è presente anche il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno bisognerà attendere adesso l'audizione di tutte le altre nove città candidate prima di conoscere la decisione della giuria prevista per il 31 di marzo parliamo adesso di un importante compleanno i cento anni dell'aeronautica militare italiana i cento anni dell'aeronautica militare un secolo di imprese con uomini e donne che hanno pilotato velivoli sempre più all'avanguardia era il 28 marzo del 1923 quando il nostro paese decise di dotarsi di una forza aerea autonoma dalle altre forze armate da allora la crescita e l'evoluzione in un contesto che da sempre la vede impegnata nella difesa nazionale portando alti i principi democratici di pace e libertà missione principale la difesa dello Stato e la salvaguardia delle libere istituzioni da ogni possibile minaccia proteggendo lo spazio aereo da qualunque violazione prevedendo e neutralizzando gli eventuali pericoli in questo contesto alle falde del vulcano a svolgere con spirito di abnegazione il personale del 41esimo stormo antisomme dell'aeroporto di Sigonella l'aeronautica siciliana l'aeronautica militare anche ovviamente le sue realtà siciliane compiono 100 anni 100 anni che hanno un passato ricco e su questi 100 anni che noi siamo orgogliosi oggi di festeggiare ci permette di capire meglio quello che è il nostro presente e ci permette anche di scegliere quali sono le vie più idonee per poter affrontare le sfide del futuro oggi c'è anche un open day l'appello ai giovani sì assolutamente l'appello è a tutta la comunità che ci segue noi vogliamo avere l'apprezzamento e il supporto di tutta la comunità per la quale lavoriamo incessantemente ogni giorno ovviamente ci rivolgiamo principalmente alle nuove generazioni ai giovani siamo una forza armata che da sempre ha una connotazione tecnologica una spinta al progresso una spinta al futuro il futuro della nostra Repubblica sono i giovani il futuro dell'aeronautica ovviamente sta nei giovani qui questa mattina la cerimonia religiosa ufficiata dall'arcivescovo di Catania Monsignor Luigi Renna alla presenza tra gli altri del prefetto Librizi e del questore Calvino è significativo ed è per me un ritorno perché mio papà era nell'aeronautica quindi mi sento molto in famiglia ho vissuto sempre questo corpo come facente parte della mia vita e quindi a maggior ragione oggi sento il piacere di partecipare il centenario è sempre un momento molto importante per una istituzione come l'aeronautica che soprattutto in questa base di Sigonella crea quegli equilibri aiuta a creare quegli equilibri che permettono di guardare con speranza al futuro il messaggio che ho lanciato ovviamente è quello di pace perché l'aeronautica è in una Repubblica che ha in un articolo molto importante il ripudio della guerra e la ricerca di ogni altra forma per risolvere i conflitti quindi le forze dell'ordine sono a servizio della pace non dimentichiamolo e siamo fiduciosi che l'impegno di coloro che vogliono rimettere in questione gli attuali squilibri porti veramente a dei frutti duraturi ci fermiamo adesso c'è la pubblicità ci rivediamo subito dopo dopo la pubblicità come di consueto diamo uno sguardo alle previsioni del tempo in Sicilia per la giornata di domani mercoledì 29 marzo così come a Trapani le altre in grafica nessuna altra notizia per voi termina qui questo telegiornale che potrete riseguire su internet sul nostro sito all'indirizzo reitv.it ma anche sul nostro canale youtube sulla nostra pagina facebook un nuovo appuntamento in diretta con l'informazione questa sera alle 19.45 grazie per averci seguito buon pomerino grazie a tutti